Due nuove tribune da 91 posti ciascuna sono state installate in due campi sportivi da caccia 11 che finora ne erano sprovvisti. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione fra l'amministrazione fanese e due società, l'Unione Sportiva di Ponte Sasso e l'Associazione Sportiva Dilettantistica di Cucurano. Come spiega l'assessore allo sport Caterina Delbianco, la decisione è stata presa per consentire al pubblico di seguire le partite in tutta sicurezza perché in caso di infortuni agli spettatori la responsabilità ricadrebbe sulla presidenza. Al centro sociale di Ponte Sasso c'era una situazione in cui chi andava a vedere la partita del Ponte Sasso saliva in un gradone neanche di proprietà del vicinato, quindi una situazione sgradevole anche per problemi di responsabilità. Abbiamo installato una bella tribuna e sono delle tribune come quelle del Carnevale, quindi per renderci conto una bella struttura che va a tamponare questa situazione. L'altra tribuna è stata installata al campo di Cucurano, il campo da calcio 11, dove anche lì gli spettatori che sono molto tifosi del Cucurano e siamo a livelli di 100-150 persone ogni sabato, salivano nel fosso provinciale, anche lì era una situazione che mi piangeva il cuore vedere questa cosa e abbiamo tamponato. Ma l'assessorato allo sport ha già in programma ulteriori interventi negli impianti comunali. Abbiamo situazioni in alcune palestre dove piove dentro, quindi interveremo sicuramente nelle palestre, soprattutto della Pallavolo e la palestra di Cucurano. E poi il circuito ciclistico, come più volte mi segnala la società di ciclismo Alma Juventus, necessita un intervento nel bordo dell'asfalto. Grazie.